Carissimi, il mio più affettato saluto a tutti i despelettatori, dal vostro Luca, grande Luca, Lucazzo per gli amici, volevo salutare anche i despelettatori che ci seguono dall'estero, anche dall'America latrina con l'antenna babbarollica. Allora, chiedo scusa del ritardo, ma sono rimasto imbottigliato nel traffico sul raccordo anale. Che dice? Io abito in via delle terme di cacarella. Scusi, scusi, io non ho capito che ci fa lei qua. Ma io resto un putrefatto, scusa. Devo presentare, sono il conduttore, anzi, voi che ci fate qua? Se dovete dire quello che dovete dire, tagliate corto, circonciso. Ma questo è il programma nostro, è lei che è di troppo qua. Ma guardi, va bene, fatti fare qualcosa. Ma scusa, non è il programma 1. Ma no. Ho sentito la sigla mucisale, una latrina. Ma no, ma quale è una latrina? C'è un 1, però questa è area 51, i comici. I UFO. Mi sono sbagliato un'altra volta, è che io sono andato dall'uluchista. Il dottore mi ha detto, giurato, ti mancano sette dottrine. Mette degli occhiali che sono un pochino lesbico. Ma no, no. Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che deve fare? Vabbè, ormai ce l'abbiamo qua, fai di far qualcosa. Adesso che, una cosa, ce la fai una bella cosa per noi? Visto che sta qui, ci presenta lei così, ci date buon auspicio, una bella presentazione. Ma sarei oronato di fare una... Io sono un esperto di prezzi e sanzioni, sono un veterinario della deputazione. Che cosa sembra? State a vedere. Tanto, mica siamo cani noi, eh. Signori e signori, signori e signori, Lady Cernobyl, sono veramente orgoglione. Con tantissima proprio nel corpo, una fatallina nel corpo che vi presento... Come vi chiamate? I sequestrattori. E che vi presento i se... ormoni. Ma no, ma no. Sigla, una latrina... No, no, no. La tolta, la tolta. No, no, no. Non è una latrina. Non è una latrina. Non è una latrina. Non è una latrina. Noi è la prima volta che ci capita una cosa così. La prego, non ce la rovini, una cosa così. Allora, le abbiamo già detto, questa è Aria 51, il programma dove ci stanno gli UFO. Ma allora, non una latrina, ma... Ma subito potete avvicciare. Benissimo. Benissimo.